Ben tornati su Ciper TV, oggi è martedì 27 novembre, un team world quest'oggi, in team da tre, mi piace tantissimo, sono 10k row, ogni atleta fa 250 metri e dai cambio al compagno di squadra e così via fino ad arrivare ai 10 km. E' tutto per oggi, mi raccomando seguite le nostre storie su Instagram per avere maggiori informazioni sullo svolgimento delle classi e noi ci sentiamo domani mercoledì, ciao!